Aldo, progetti per il futuro, tu hai fatto anche tanto cinema, insomma ti piacerebbe ritornare al cinema? Altro che, sempre un film importantissimo, sempre grazie con Ernesto Maielli, imbalsamatore, una piccola parte ma è stata per me una parte importantissima. Poi ho fatto con Inigra Silla, Buonanimo, purtroppo non è più fra noi, Il Latitante, dove c'era anche Oscar Di Maio, Tony Speranteo, Nicola Di Pinto, Barbara Chiappini, un sacco di attori carini. Poi recentemente ne ho fatto un altro con la regia di Nando Di Maio, che ancora deve andare in giro, si chiama Senza Tregua con Mario Da Vinci ed altri attori, la stessa Lucia Cassini, Ciro Giorgio. Bello.